L'attesa è finalmente terminata. Sono infatti suonate questa mattina le tante campanelle degli istituti scolastici provinciali e regionali che hanno decretato il ritorno tra i banchi degli studenti. La prima giornata di lezioni è stato un banco di prova importante non solo per i ragazzi ma per tutto il personale scolastico. Tante le misure di sicurezza che gli studenti hanno adottato una volta avvarcato l'ingresso dei plessi in modo scaglionato e contingentato. In primis l'igienizzazione delle mani e la misurazione della temperatura attraverso dei termoscanner come è avvenuto presso l'istituto Bramante Genga e il liceo scientifico Marconi. Il primo test l'abbiamo avuto, è andato tutto bene, i led non si sono mai accesi e nessuno aveva la febbre stamattina. Proprio Marconi infatti da quest'anno si è dotato di questo strumento per misurare le temperature i ragazzi? Sì, in realtà l'abbiamo in tutte e tre le sedi, il Benelli, il Genga e qua il Marconi. Credo che sia uno strumento indispensabile per essere abbastanza sicuri che all'interno della scuola non ci siano febbricitanti. Questo ci dà una garanzia superiore rispetto a un ingresso non controllato da questo punto di vista. Che ragazzi hai visto questa mattina prima di entrare in classe? Ho visto ragazzi motivati, desiderosi di rientrare, di ricominciare. Occhi un po' impauriti dalla novità, quello sì, però sicuramente con un grande entusiasmo. La distribuzione del Marconi quindi come è stata effettuata? La distribuzione delle classi? È stata spostata in qualche altro istituto? Dunque noi siamo quasi 2000 studenti, essendo questo un edificio che ne contiene solo 1000 implica la necessità di andare su più plessi. Ma questo dà tempo, non certo solo quest'anno. È una cosa di routine direi oramai. In chiusura, dopo l'ingresso degli studenti, altri momenti da tenere sotto controllo durante la giornata? Beh adesso vediamo, normale routine, l'organizzazione, la logistica, il bar ovviamente, le ricreazioni. Vediamo, devo dire che ho avuto l'impressione che gli alunni facciano molta fatica a stare distanziati. Avete visto anche voi, nel piazzale e nell'attesa c'erano dei gruppetti che non mantenevano le metri di distanza. Noi ci siamo mossi, ma oggettivamente quello può essere un problema. Sarà un 2020 che ci ricorderemo, credo che sarà difficile scordarcelo. Sia appunto per la particolarità, ma per anche le ansie, le preoccupazioni. E anche perché dovremo poi rivedere un po' le cose, capire un attimo. Questo è un banco di prova, diciamo, questa prima settimana. E capire un attimo come le cose potranno andare. Noi abbiamo organizzato appunto questi ingressi cercando di scaglionare. Innanzitutto, ecco, come vedete oggi alle 9 entrano le prime. Mentre gli altri ragazzi delle altre classi sono entrati naturalmente all'orario alle 8.05. Abbiamo suddiviso la scuola in tre compartimenti, diciamo, in tre settori, ad ognuno dei quali corrisponde un colore e un numero per l'ingresso. Quindi i ragazzi devono entrare, a seconda della loro classe, da questi tre ingressi. Poi abbiamo appunto questi termoscanner all'ingresso dove appunto loro sanificano le mani, passano, e diciamo con la mascherina naturalmente, come ben sappiamo, e poi appunto si recano nelle loro aule. L'uscita è stata organizzata altrettanto in questo modo, cioè da dove entrano escono, fatta eccezione per le classi che si trovano al piano terra. Perché noi abbiamo qui dei laboratori e tutti i laboratori, tranne due, hanno proprio una loro porta che dà direttamente l'accesso all'esterno. Quindi suoneranno tre campane, la prima dirà stop alle attività didattiche, la seconda campana sarà l'uscita delle classi che sono appunto piano terra, così per evitare un po' l'affollamento, e poi usciranno tutte le altre con l'ultima campana. C'era emozione e desiderio di tornare a vivere fisicamente la scuola negli occhi dei tanti ragazzi che questa mattina aspettavano l'ingresso in classe nei vari istituti che il campus scolastico ospita. Centrale anche il nodo dei trasporti, vista la difficoltà di riorganizzare i mezzi per garantire il rispetto delle norme anticontagio e per la quale qualche preoccupazione è stata sollevata dagli studenti stessi, a causa di qualche episodio non previsto dai protocolli che si è registrato proprio questa mattina. Non ho ancora un'idea di come sarà, spero che si risolva al più presto. Io volevo tornare in presenza anche perché volevo rivedere i miei compagni e stare chiusa in casa con uno schermo davanti era un po' complicato. C'è sempre questa volontà di ritornare tra i banchi anche se innata nello studente, secondo me. Com'è andato il primo viaggio appunto sui mezzi con le nuove disposizioni? Bene, è andato bene. Controlli ci sono stati? No. E ci sono dei posti a sedere? Come funziona proprio dentro l'autobus? Sì, ci sono dei posti a sedere, alcuni si mettono anche vicini e alcuni non mettono neanche la mascherina. Quindi non sono state rispettate in pieno tutte le misure di sicurezza? Alcuni no. Emozionante e particolare il rientro a scuola anche dei tanti altri studenti pesaresi. All'Istituto Agrario, grazie al tanto spazio verde di cui il CECCHI dispone e all'ampliamento della tensostruttura, i docenti hanno deciso di realizzare gran parte delle lezioni all'aperto, mentre la scuola media di primo grado Dante Alighieri, alla presenza del sindaco Matteo Ricci, degli assessori Ceccarelli e Belloni e del garante regionale dei diritti alla persona Andrea Nobili, il mini sindaco degli studenti ha consegnato ai suoi compagni un manuale anti-covid con tutte le regole utili e necessarie da rispettare. Le rappresentanze dell'amministrazione comunale hanno aperto l'anno anche della scuola d'infanzia Il Giardino delle Meraviglie di Vismara e quello dell'asilo nido Girotondo. Il Giardino delle Meraviglie di Vistur